Salve a tutti, io sono TheLongamer e benvenuti nella seconda ed ultima parte del doppio episodio finale di Unpacking. La prima parte è ovviamente uscita ieri, quindi signori, andate a guardarla, altrimenti vi perdete parti importantissime della vita della Gianchiara. Signori, sì, lo ammetto, mi vergogno di non essermi accorto di ovvissimi dettagli negli oggetti molto femminili della compagna della Gianchiara. Cioè, io ormai ho editato il video, ma il telone che l'ha registrato negli scorsi giorni, fidatevi, ci metterà troppo davvero ad accoggersene. Per quanto ammetto, c'erano dei dubbi, ok? Ma lo vedrete mano a mano che andiamo avanti nel video. Restate fino alla fine perché proprio sul finale c'è, non dico il colpo di scena, ma un reveal proprio a confermare il tutto. Buona visione! Ok, toglimi sto scatolone perché non riesco a girarmi. Nel frattempo ha comprato ancora formine. Questa qua ha delle salse, buttala qua dentro, che tanto non la utilizzate mai. Siamo onesti? Carta igienica, no, aspetta. Oh mio Dio, ok, ho trovato il bagno padronale, quindi la puoi mettere direttamente qua. Ci metterò una vita a dare e dare tutte queste stanze? Mi sa che siamo arrivati al livello finale, è abbastanza ovvio. Scola, pasta, mettiamolo per adesso qua sotto, ci dovrebbe stare in tutta tranquillità. Le pentole possiamo metterle qui o qua? Voglio dire, qua c'è abbastanza spazio, non dobbiamo ogni volta fare i big chilometri. Casomai le padellozze le lasciamo sotto. Aspettate che ovviamente c'è tutta la roba Japanese da mettere via. Aspetta, questo lo possiamo piazzare direttamente qui insieme al suo cugino. Oh mio Dio, hanno un sacco di cugini? Aspetta, allora, chiudi questo e casomai li archiviamo qua sotto. L'immancabile grattugia che per adesso mi archivi qua sopra. E abbiamo trovato il tappo, perfetto. Oddio, un poster? Poster di cosa? Ah, non è un poster! Sono i sacchetti neri per la monnezza. Ok, lasciamoli tranquillamente lì sotto. Marona, che big bidoncione! Aspetta, lo possiamo mettere qua di lato. Perfetto, ok. Dobbiamo liberare il nostro campo visivo? O qua non ne usciamo vivi? Oddio, mi ero dimenticato della lavagnetta. Aspetta, spostami questo. E la lavagnetta possiamo anche lasciarla lì. Nel frattempo ho trovato l'altra balena. La mettiamo qua sopra. Perfetto, le mettiamo sfasate. Oddio, hai comprato un sacco di nuovi accessori? Per la cucina di questo passo dovrò togliere il seccocchio di tazze. E' abbastanza ovvio. Belli questi. Ce li ho anch'io, ma non così grandi purtroppo. Al telone le spezie piacciono veramente un sacco. Allora, scolapasta, cominci a rompere le scatole. Per adesso ti metto qua sotto. Perché vorrei riordinare per bene. Ecco, lo sapevo. Tutto il pentolame. Apri scatole. Schiaccia aglio. Oh, porca la miseria. No, qua ci vanno... No, qua vanno le posate, ciccio. Toglimi le tazze. Gli troverò un posto più consono. Eccoli là che stanno cominciando ad arrivare tutti gli oggetti inaspettatamente troppo grandi. Fortuna che il The Long Game era anche bravino a giocare a Tetris. Quindi, yay! Non ti voglio più vedere. Le teglie del mio forno. Che non ho ancora capito perché non posso aprire il forno e metterle dentro. Ah, oddio, cosa sono? Ah, altri stickerini. Perfetto, mettili anche sotto. Si pareva che doveva esserci la priscatole. Allora, facciamo così. Toglimi sta salsiera e... Volevo buttarla in un angolino. Per adesso va bene, così ho un altro cassetto libero. in cui mettere il resto della roba. Avessi un portacosi? Sarebbe decisamente... Dai, Gianchià. Sarebbe decisamente molto più comodo. No, davvero, Gianchiara, io non so dove sbattere la testa. Senti, questo mettimelo qua sopra. Ok, per ora mi accontento. Non so cosa siano. Fiammiferi, probabilmente. Lo scopino per pulire i piatti. Lo possiamo lasciare fuori? Non lo so nemmeno io. Adesso appoggiarlo lì dentro. Ti pareva che doveva avere anche i maledettissimi misurini? Che piazziamo qua sotto nel quarto cassetto. Eccolo lì. Dopo liberiamo quella zona. Le cosine per il forno? No, volevo appenderle qua. Sarebbero state perfette. Vabbè, teniamole nel cassetto. Teglia numero due. Teglia numero tre. La collezione di teglie di proporzioni bibliche. Lo sapevo che adesso mi rompeva le scatole. Allora, spostami qua sopra un po' di oggetti. Perché a sto punto lo zucchero me lo metti qua. Le salse le mettiamo qua dietro. O perché no? Anche qua ci stanno tranquillamente il miele dietro. Lo zucchero. Questo non so cosa sia. C'è un pesce? Dimmi che sta qua sopra. Ok, appena salta fuori. Olio e aceto, credo mai. Gli troviamo una location più consona. Pestello e mortaio ciccia non li userai praticamente mai. Ecco, archiviamo un po' meglio. E questo ritorna al suo legittimo posto. La spugna la posso mettere dentro. Non si dovrebbe perché continua a rimanere umida e poi spuzza e tutte cose. Ma per adesso la gianchiara se lo può permettere. Oh maronne, dopo che ti metto lì dentro. Prodotti per la pulizia. Cos'è? Una O? Oddio, adesso salteranno fuori tutte le letterine. Non sono le letterine, anche le cacchine a quanto pare. Non mi dire che ci sono tutti i cocchi di numeri. Giustamente non può mancare la caffeina. Piazza sempre tutto là sopra. Serissimo e bellissimo. Non lo mettiamo. Lo potremmo mettere sopra, ma di solito sta sotto. Senti, appoggiamelo lì. Come ho detto finché non ho capito dove si trovano tutti gli oggetti, non posso decidere dove piazzare tutto. Ok, i piccini me li puoi mettere qua. Una bottiglia d'acqua. Dopo li troviamo una location. Antihero. C'ha pure le bottiglie di antihero. Oh, è arrivato l'olio finalmente. Piazzalo qua sopra. Perché se devi cucinare con l'olio, ecco da buona e tanto giusta, averlo a portata di mano. Guarda quante bottiglie che c'ha. Una marea. Sale. Senti, piazzalo sempre qui perché se lo zucchero sta di là a sto punto. Ho trovato le forchette. Finalmente. Ciccia, non c'è più spazio su sto cocchio di frigorifero. Ah, beh, che pirla. Potevamo mettere alcune robe anche da quest'altra parte. Spero che la cacchina in parte al bidone non confonda il mio compagno. Oddio, ho trovato il resto dei piattini che magari penso di averci cagare dentro. Eh, non è un ometto molto furbo, ma vabbè, dettagli. Piatti uber grossi. Tirali fuori tutti perché devo capire dove metterli. Quello che non mi piace di questa cucina è che è tutto troppo a giorno. Oh, marone. Ti pareva che c'era anche il disforno a microonde? Che va ovviamente incassato qua. Oh, ci sta che è uno spettacolo. Allora, le teglie possono andare qua sotto. E non è un problema. Il coso degli scarafaggi e i vari detergenti stanno qui. Aspetta, con la pasta fammi spazio perché tanto queste bottiglie non le utilizzerò praticamente. Ma come non ci stai? Più indietro? So che c'è spazio più indietro? Non mi mentire? Ok, allora mettere qua davanti. Se proprio ci dobbiamo odiare e far battaglia ci potevano stare a mio avviso, eh. La carta stagnola lì e tutte cose la mettiamo in parte ai sacchetti e via dicendo. Dimmi che c'è spazio per il tagliere. Mollalo qua sotto. Oh no, di nuovo i porchi mi devi far tirare. Aspetta, c'è spazio per il mattarello che possiamo inserire direttamente qua. E queste... Ve lo mettere per lungo? Ma il gioco ha detto manco per il cocchio. Quindi le piazzi lì sotto e ti accontenti. Allora, tazze che tanto non utilizzeremo mai. Le mettiamo nascoste lì. Perfetto. I piatti proviamo a spostarli. Cosa mai? È qua sopra a sto punto. E tolgo lo zucchero e il miele e li piazziamo sul ripiano superiore. Piatti più piccoli stanno qui. Tazze! Allora, mettiamole qui sotto perché tanto a quanto pare ho una sola padella. Ok, le piante qui rompono le balle. Voglio essere onesto con voi. Quindi le metto sopra il frigorifero. Perché purtroppo lo spazio a disposizione comincia a scarseggiare. Allora, abbiamo i coltelli. Ecco qua. Aspetta, dimmi che... Se mi stai vicino magari... Ah, volevo mettere anche i rotoloni. Oh mio Dio, la salsiera sta qua sotto. Sì, e una me la sono tolta dalle balle. Il tagliere può anche restare qui. Non rompe le scatole a nessuno. Ottimo. E questi a sto punto li possiamo mettere direttamente qua. No, volevo metterlo col cotto verso l'esterno. Perfetto. E abbiamo fatto tutto? Devo vedere se questi poi me li accetta. Lo scopriamo più avanti. Ok, salotto principale, non ti temo. Ribadisco che sto gioco è un po' una presa in giro per me. Perché sono 14 mesi che mi sono trasferito, come ho detto. E casa mia la devo ancora sistemare. Invece sto sistemando la vita della Gianchiara. Allora, questo può stare tranquillamente. Qui, la console. Ok, aspetta, aspetta, aspetta. Non sta qui, ma sì che ci sta, dai. Vabbè, piazzala lì di lato. Controller lo possiamo anche mettere lì. Ci può stare. E il resto dei controller, casomai, li mettiamo sotto. Uh, bello. Quello che mi dà fastidio è che non lo puoi centrare, ma rimarrà sempre decentrato. Telecomando del televisore. Ottimo, a meno che non lo posso piazzare. Ah, qua di lato, anche se non è proprio lo spazio più adatto. Cos'è sta roba? Non ho capito di cosa si tratti. Deve essere di qualche religione o altro. Cuscinozzi. Perfetto. Il Frieten ce lo siamo portati di qua. Questo lo metterei anche sopra perché è troppo bellino, onestamente. Questo mi sa che va in entrata? Non so dov'è il portacodi, il portaombrali, vi è dicendo. Oh, maronne. Maschera, da quanto tempo che non ti vedevo? Mi sa che sta solo lì perché non c'è altro spazio. A meno che non sia qua sopra. Ma mi pare un po' eccessiva. Per adesso lasciamola lì sotto perché è un oggetto un attimino tanto visibile. L'annaffiatoio. Quindi vuol dire che stanno per arrivare uno sfaccello di piante. Dove puoi mi hai messo le piante, ciccio? Ci fanno qua i sottobicchieri che dovrebbero stare in cucina? Ok, tirami fuori tutti i DVD. Giochi da tavolo possono stare qua sotto. Mi sa che sono i giochi della console molto probabilmente. Ah, ma no, è una collezione assurda. Va che roba. Ok, altro gioco da tavolo. Ancora un altro. Sto a fare una pila che qua mi cade tutto. La mica coperta non poteva averci abbandonato. Abbiamo giochi anche di console più recenti. Ok, ho trovato l'ultimo. Allora, dove mettiamo il tutto? Perché i videogiochi qua sotto non ci stanno. Non c'è abbastanza spazio. Però qua sopra non ci sono problemi. Aha! Ok, occupiamo la maggior parte dello spazio a nostra disposizione. Da questa parte. E casomai questi qua più blu, che saranno della PS5 probabilmente, anzi PS4, li mettiamo da questa parte. Tanto lo sappiamo tutti che o saltano fuori altri videogiochi, o saltano fuori dei libri. Quanto prima. Aspetta che comincio a far confusione. Eccoli là. Ve l'ho detto che saltavano fuori i libri della Gianchiara. Porca la miseria, ciccia. Ho trovato anche Donnie Darko nel frattempo. E che non riesci a capire se sono videogiochi, film o altro. No, appunto mi sa di film. Mettilo. Oh, più basso degli altri. Mi sa che va lì. Oh, ma guardala la cara buona vecchia console. Mettimela per adesso lì sotto. Abbiamo altri giochi anche qua. Aspetta che si stanno accumulando di nuovo. Ho trovato anche l'altro controller, che ci stiamo portando dietro da una marea di tempo. Ammetto, mi sono affezionato, ma poppo una cifra a lei. Porco cane, lo sapevo. Piazzola qui per adesso. Altro gioco da tavolo, che non ci sta. Probabilmente dobbiamo prima liberare lo spazio a nostra disposizione. Direi che questa va in cucina. Oddio, dimmi che sta... Qua sotto. Va benissimo. Non giudico, non critico. E ok. Abbiamo svuotato tutto. Dimmi che posso far spazio. Ok. Allora, toglimi questo. Questo lo posso mettere sotto. Così questo sta sopra. E questo lo mettiamo in parte. Fin qua tutto bene. Scusate, ma il resto della roba dei viaggi che fine ha fatto? Mi sa che si trova in altri scatoloni. Allora, sti libri gli troverò una location più adatta appena possibile. Perché qua rompono le scatole non poco. Casomai questi me li puoi mettere, che ne so, davanti alla televisione. Gli riesco a mettere in maniera simmetrica. Non mi piace, per via della prospettiva. Senti, mettili gli uni vicini agli altri. Va ben cusci per adesso e dopo mettiamo via anche gli altri. Allora, vediamo un po'. Oddio, tutte le scarpe. La cosa si fa decisamente molto, ma molto puzzolente. Ma dove fai il cestino? Il quadro del gatto lo possiamo mettere direttamente qui. Facciamo una cosa... Aspetta, un po' più in su è questo così. Così, dai, ci può anche stare. Oh, ecco i cosi dei viaggi. Aspetta, una mezza idea. E se li mettessimo tipo qua in entrata? Ah, non è la peggiore idea del mondo. Oh, eccoti qua ciccio, ti stavo cercando finalmente. Non ho capito ancora di chi è il bastone del nonno. Probabilmente si era rotta qualcosa lei. E se ti dico io cosa che mi sono rotto, ma vabbè, dettagli. Questa casetta non me la ricordavo. Deve essere probabilmente nuova. L'elefante? Mi si è andata anche in India. Ah, è capito, si è girata tutto il mondo. Ma sono proprio fiero di lei. Sì, ma con quante scarpe non me lo dici? Aspetta un attimo che sto cercando di non separare le varie paia. Ok, spostiamo qua la tour Eiffel, altrimenti mi copre lo specchio. Ok, questa va con quest'altra. Se sono storte non importa. Coperta? Che cosa c'entra una coperta qui? Ok, la metto in camera appena possibile. Allora, ora mi diverto perché se qua sarà impossibile far star tutto. Ciccia, ma comprarti una scarpiera di quelle chiuse? Non so, ma io continuo a dire che adoro poter nascondere i miei oggetti in modo tale da poterli anche lasciare in maniera un po' più disordinata. Ma ho anche una questione di privacy. Aspetta. Tu vuoi un po' più in là. E gli stivali. Eh, senti, il parcheggio qua in parte. Coperta? Oh, è un coperto o è un asciugamano? Ci deve essere... Ah! Sì, c'è un mega bagnozzo principale. Wow! Ok, con una mega lavanderia di tutto rispetto. Quindi tu puoi andare qui. Meno male, meno male. Scusa, eh. Se io avessi fatto così nel 2016, quando mi sono trasferito in Veneto, nel vecchio appartamento, avrei scoperto che quello che usciva da qui, poi passava nella vasca da bagno. Sapete, molto bene tutti i traumi che ho vissuto in passato. Vediamo un po'. Oh, abbiamo anche un paio di cassetti di tutto rispetto. Mi serve la tazza? Porca miseria. Uh, questo si apre. Per adesso metti lì. Oh, ciao tazza! Mi sa che la vecchia si è rotta. No, ma come? Ok, ci sta ancora tutto dentro. L'importante è quello. Allora, da una parte mettiamo gli oggetti della Gianchiara e dall'altra quelli del compagno. Oddio, vedo un sacco di creme. Allora, aspetta, mettile qua sopra che così non facciamo confusione. Un marone, ne avrà un sacco, vero? Detergente per le manine. Piazza questo qui. Assorbenti. Vabbè, li possiamo piazzare, casomai, qua sotto. Dobbiamo diminuire il volume di scatoloni quanto prima. Questo era suo. Orcocane. Senti, metti la... Casomai qua sotto. Tanto romperà le scatole il gioco e dirà No, voglio che lo lasci dentro un cascetto. Oh, ma guarda che carina la mensolina per la doccia. Anzi, la vasca doccia. Mio Dio. Cioè, con tutto lo spazio che c'è in sta casa non potete mettere una doccia e una vasca da bagno separate? No. Torre di Pisa, che ci fai qui? Torna in ingresso. Porca di quelli per porca. Ah, ecco qua. La torre di Pisa ha tentato di fuggire. La paperella. Aspetta, lasciala lì. E cosa sto guardando? Non ho la più pallida idea di cosa io stia guardando. Vabbè, mettiamolo lì qualunque cosa. Esso sia. Ah! Aspetta, questo lo possiamo mettere dietro perché è più grande. Ok. Assorbenti. interni. Beauty Case. Che deve essere davanti alle prese elettriche e rompere le palle. Il rasoio elettrico glielo mettiamo direttamente qua. Deodorante. Ascellare. Mega asciugamano della Genchiara. Vitamina D. Senti, butta la vitamina D lì dentro. Qui abbiamo anche un po' di farmaci. Salvo intoppi. Dovrebbero poter stare tutti qua dentro. A meno che la Genchiara non ne abbia accumulati 8 milioni. Ma no, Genchiara. Anche i cerotti. Senti, metti qua la vitamina D che tanto non la prende mai nessuno. Così possiamo lasciare lì i cerotti. Lo sapevo che dovevi avere altri barattoli. Allora, aspetta un secondo che gli ripiazzo da quest'altra parte. Potrebbe essere letteralmente di tutto. Fazzolettini. Sopra il gabinetto. Bidon Caino. Ecco qua. Ti lasciamo lì dietro. Uh, la bilancia. Perché Genchiara, adesso che sei incinta, il peso comincerà a diventare complicational. Facciamo una roba decentrata del genere. Oh, la carta igienica la mettiamo qui. Oddio. No, è al contrario. Così va messa. E non dite di no, porca misera. C'è qualcuno che la mette al contrario. È del male in terra. Tutto può stare qua sotto. Oh, lo scopino. Nelle altre case la Genchiara non c'aveva lo scopino. Genchiara. Perché c'è del terriccio qua? Eh, buttalo lì sotto. Scusa, come pulivi il gabinetto tu prima? Sporcacciona della Genchiara. Ah, questa roba per pulire. Adesso ho capito. Eh, lasciala lì per... Anzi, possiamo metterla... Ah, sì, lì va benissimo. Quindi c'ha la lavatrice, l'asciugatrice, un mini lavabo. Brava, Genchiara. Un altro di questi mega asciugamani? Eh, senti, mettilo qua sotto. Perché ne abbiamo già due? Oh, maronne, quello della biancheria. Beh, può stare tranquillamente... Ti devi chiudere? Dicevo, tranquillamente lì? La porta si apre. Eh, vabbè, non è un problema mio. In fin dei conti non abbiamo altro spazio disponibile. Cos'altro manca? Ancora carta igienica. Il rasoio del mio uomo va lì. Oh, maronne, con quanti assorbenti non me lo dici? Penso che per un po' non ti serviranno, ciccia. Oh, aspetta un attimo. Anche col bambino in arrivo, probabilmente. Ci saranno un sacco di oggetti di cui avremo bisogno. Ah, sono i detergenti per pulire questi. Allora, i prodotti per la pulizia li mettiamo... Vuol mettere lì dietro? Ok, ci stanno. E qui mettiamo tutti i prodotti. Aspetta, allora sposta questo qua. Perfetto. Per la nostra lavastoviglie. Eh, per la nostra lavatrice. Non lavastoviglie, scusate. Mi sono rincretinito pure io. Mega barattolone. Questo è quello per il bagno. Quindi l'ho messo direttamente qua. Questo lo portiamo dopo in cucina. E vedi che c'era il rasciugamano numero 2? E abbiamo anche il numero 3. Oh, maronne, ne abbiamo anche troppi? Ah, dove, 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 dove? Ah, lo posso lasciare qui sopra? Aspetta, un po' più indietro. Grazie, Gio. Ah, devo accumularli uno sopra l'altro. Uh, mega cessione della biancheria. Quindi automaticamente... Ah, lo posso mettere! Ok, ho visto che è entrato all'ultimo. Questo va qua sopra. Ok, possiamo chiudere la porta. No, chiudi la porta, perfetto. Aspetta, c'è ancora un oggettino qua. E qui non mi ero accorto. Chiudi anche lo specchio. Spazzola, puoi andare qui. Oh, un bagno bello ordinato. Aspetta un attimo, avevamo già un insetticida. E beh, adesso siamo in campagna. Ci saranno probabilmente ancora più scarafaggi. Allora, cos'altro mi manca? Oddio, la nursery. Carina comunque la parete dipinta in questo modo. Allora, le pianticine me le puoi mettere qui. Ma questo ovviamente non ci starà. Allora, togli il vaso per 5 secondi che romperà le scatole. I cubi giocattolo. Mio Dio. La lampada. Non la metto? Ah, la posso mettere qua. Ah, ma che cosa carina. Aspetta, ho aperto un altro coso per niente. Il maialino. Lo metterò qua sopra, ma non ci sta purtroppo. Vabbè, lo mettiamo sulla sedia per adesso. Aspetta, ci sono tutti gli animali di pezza, mi sa. Molto probabilmente. I libri per bambini. Beh, questi dovrebbero poterci stare qua. Con quanti cubi non me lo dici? Il ciuccio. Beh, questo lo mettiamo direttamente lì. Oddio. È un'armata di cubi. Cos'è sta roba? Non so cosa sto guardando. Deve essere un'altra roba per il bambino. Ma al momento non sono molto padre io. Aspetta, metti qua. Porca miseria. Quanti robi. Cos'è? Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Ho trovato una confezione. Dimmi che cubi vanno al suo interno. Speravo, perché ho visto che ci sono delle zone separate. Probabilmente la possiamo inserire qua sotto. Aspetta che ci sono anche le cremine. Ok, le cremine le possiamo mettere lì. Le salviettine. Oddio, aspetta, aspetta, aspetta. Mi sta cominciando a salire l'ansia. Forse questi vanno qua sotto. E questa automaticamente non cesta più. Ok. Toglimi dalle balle almeno uno scatolone. La pallina. Senti, ma sto povero bambino è pieno zeppo di oggetti allo stato attuale. Altro libro per bambini che possiamo mettere lì sopra. Oh, Gesù. Questo non va montato tipo qui? No? Sono scemo io? No, niente da fare. Me lo fa mettere dentro, ma non agganciare sopra. Vabbè, probabilmente ci può giocare anche quando è a terra. Abbiamo i quadri del maialino. Oddio, un sacco di vestiti del bambino. Aspetta un attimo. Ok, dobbiamo trovare un punto in cui mettere tutti questi giocattoli. Asciugamani a profusione. Devo vedere cosa c'è qua dietro. Altrimenti gestire lo spazio sarà un'impresa. Veramente titanica. Aspetta un altro ciuccio. Magliettine per il bambino. O bambina. Non lo so nemmeno io. Ah, ma che adorabile coniglietto. Un sacco di berrettini. Aspetta, aspetta, aspetta. Cerchiamo di lasciare tutto il più in ordine possibile. Questo lo possiamo mettere anche sulla finestra. Ma sì, dai, ci può stare che aggiungi un po' di colore. Maronne, quanti cappelli. E vabbè, ecco le orecchiette. Esagerata. Basta, Cubi. Te lo chiedo in ginocchio. Basta, Cubi. Oddio, aspetta. Dopo li troviamo un posto. Bidoncino può stare tranquillamente lì. Maronne, ho c'hai un'ossessione per i Cubi, Ciccia. Ok, in teoria i vestitini dovrei poterli mettere qua dentro. Assieme ai cappellini. Prendili tutti. E già mi sono tolto dalle balle un po' di roba. E alcuni oggetti più piccoli li possiamo mettere all'interno del cassetto. Aspetta, prendimi anche i sonagli. Oggi ci sta anche quest'altro. Ste cose qui che non so cosa siano. No, lasciamogliene giusto un paio. E il resto, casomai, glieli dai. All'occorrenza la pallina può stare qui. Chiudi. Oh mio Dio, ancora asciugamani. Aspetta che c'è uno che è storto rispetto agli altri. Che poi sento già gli iscritti. Ah, nei commenti che si triggerano male. Oddio, questo dove va messo? Ok. Andiamo per gradi. Questi li possiamo mettere qua sotto. E purtroppo per noi non ci sta altro. Mi sa che questo lo dobbiamo mettere qui. Dove va messo questo? Oddio, aspetta, forse dobbiamo fare una roba del genere? No. Che ho fatto? Che ho fatto? Ah, ho trovato. Ok, mi hanno sbloccato un nuovo sticker per commesso gli animali vicini gli uni e gli altri. Ok, sto coso non si aggancia da nessuna parte. Quindi per ora lasciamelo lì. E il problema è che il pavimento è completamente disordinato. Vabbè, questi li possiamo metterli qua. No, abbiamo un cassetto vuoto. Andate dentro. Bravi, bravi. Sono proprio fiero di voi. Il problema è che i due animaletti non mi ci stanno più vicini. Questo... Senti, mettilo nel lettino a sto punto. E spostiamo, cosa mai, il resto dei giocattoli. Sì! Ok, questi li possiamo mettere qua dentro. Meno male. Così questa sta qua sotto. E la cremina la mettiamo qua in fondo. Ok. Cuscino ti lasciamo lì. Pallone... Stai lì in angolino? Anzi, mettilo qua dietro. Non ci sta. Ah, coniglietto tu stai qua sopra. Ottimo. E voi ragazzuoli potete star lì. Pallone ti metto qui. Oh, è. Casomai rotola, piglia il bambino e mi ci muore all'istante. Allora, camera da letto. Oddio mio. Aspetta, ma l'armadio dov'è? Ah, è vero che gli americani hanno la cabina armadio e tutte cose. Un cappello. Non cominciamo bene, ragazza mia. Cominciamo a piazzare tutti... Sì, ma prima... Tiriamo fuori tutte le gruccettine, tutti gli appendini, come cocchio si chiamano. Io le chiamo grucce. E le magliette per adesso te le piego qua. Le gonne te le metto da quest'altra parte. Le gonne le possiamo anche mettere qua sotto. Non ci sono problemi. Gonnina, vai. Commetto che ci sarà un appendino per ogni singolo spazio disponibile. Aspetta, guardate i pantaloni. Ehi là, questi sono per andare a far sport, e vi dicendo. Uh, abbiamo i cassettini. Non so se essere contento o desiderare di spararmi all'istante. Senti, il cappellino. Mettilo lì. Ah, per ordinare questo armadio sarà un incubo. Senti, mettimi intanto il vestiti. Ah, non ci sta, perché abbiamo anche dei vestiti più lunghi. Quindi vuol dire che comunque un po' di queste le dobbiamo mettere qua sotto. Aha. Altrimenti i vestiti lunghi della Gianchiara non ci stanno. Ecco, vedete, questo è tipo uber gigantesco. Il portaspilli? Eh, vabbè, lo possiamo anche lasciare qui, che non dà fastidio a nessuno. Gianchiara, ti sei messo pure a far con filo e ago tutto il tempo? Allora, aspetta i pantaloncini. Dopo gli troviamo un posto un attimino più consono. Oh, riesco a vedere i cassetti. Incredibile, ma vero? Il problema è che sono tipo uber piccoli. Eh, quanti pantaloncini mi ci stanno? Probabilmente solo uno per... No, due. Due. Meglio che nulla. Mi accontento. Le gonne te le appendiamo da quest'altra parte. Queste, perfetto, quelle quantomeno più piccoline, che probabilmente le potevo mettere sopra, eh. Oh mio Dio, aspetta, ho capito cosa vuoi dalla mia vita e cominciano a salirmi i big traumi. Allora, la parte superiore la riserviamo a lei, la parte inferiore, casomai, dei cassetti intendo, la diamo a lui. Lo specchio sta più o meno qui, dopo lo centriamo in caso di necessità. Tutte ste robe natalizie, ciccia. Ma come puoi e ti vesti, Gianchià? E ho capito che stai un attimino invecchiando. Oddio, sono arrivati i calzetti. Ah, ma è doppio! E sembrava singolo, in effetti. Ora faccio fatica a capire quale roba hai di lei e quale roba sia di lui. Maronne, abiti uber lunghi. È qualcosa di assurdo? Aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Ora il mio campo visivo è quasi libero. Il problema è che non ho trovato quasi roba di lui. Vuoi vedere che è tutta roba di lei? Beh, questi sono sicuramente di lei. Aspetta, secondo me. Metti qua sotto. E casomai senti le gonne per davvero spostamene sopra a sto punto. E lasciamo casomai questo per gli abiti più lunghi. Beh, questo è chiaramente di lui. Però è troppo grande e quindi la dobbiamo spostare sotto. Potrebbe essere anche di lei. Non ne ho la più pallida idea. Oh, reggiseni, da quanto tempo che non vi vedevo. Perfetto. Dimmi che siete tutti in ordine. Così non devo stare a tirare porchi. Pantaloni. Dobbiamo mettere qua anche i suoi pantaloni. E dopo, casomai... Uh, reggiseno sportivo. Dicevo, sarà lui a spostarseli. Ah, l'occorrenza. Gonna uber lunga. Quindi dobbiamo metterti qua sotto. Cos'è sto mega zainozzo? Ehm, allora, per un secondo. Toglimi questi vestiti. Spostali qui. E lo zaino? Possiamo tranquillamente metterlo nella parte bassa. Beh, la Genchiara è sempre stata una donnina molto sportiva. Lo sappiamo molto, ma molto bene. Oh, marone. Ve l'ho detto che me li avrebbe fatti mettere tutti dal... Dal primo all'ultimo. Oh mio Dio, mega valigiozzo. Perfetto. E beh, in fin dei conti, se vi... Se beh, ricordate? Lei ha sempre viaggiato in lungo e in largo. Quindi è anche comprensibile che abbia tutto sto popo di roba da mettere via. Ehm, quanto mi sa di pigiama? Mi tiro lì per adesso. E pantalone di pigiama. Ok, oddio, ancora reggiseni. Mi sa che di sto passo davvero tutto lo spazio è riservato alla roba di lei. Ah, beh, non c'è più spazio per i reggiseni. Ciccia, eh, abbiamo riempito tutto? Ah, que, que, que. Questa non me l'aspettavo. Ora che c'ha la casa grande, la gianchiara, come potete notare, mi occupa decisamente molto più spazio. Allora, i pantaloni... Senti, metti lì. Anzi, sono pantaloncini. Però adesso lasciameli da parte, perché non so più dove mettere la roba. Questo è un coso sportivo. Calzettino. Aspetta, questo può stare tranquillamente qua. Oh, marrone, quanti ne hai? Il problema non è quanti ne hai, è che dopo un po' non ce stanno più. Quindi questo lo sposti su, questo me lo porti giù. E ora ci dovrebbe poter stare altri calzetti. Saranno anche un po' spaiati, eh. Non dico di no. C'è un sacco di canotte di quelle piccine piccio. Uber giacca. Uber giacca mi dovevi per forza far tirare porchi. Oddio mio. Mi sta salendo ansia, vi giuro. Io come uomo c'ho quattro robe in croce. Ma la nostra Gianchiara sta riuscendo a farmi salire i peggio dubbi esistenziali. Allora, aspetta. Questo me lo sposti su questo, me lo porti giù. E la giacca della Gianchiara ci sta tranquillamente. Il problema è che abbiamo ancora due scatoloni. Ah, Gesù. Aspetta. Non mi ricordo più dove stanno il resto dei calzetti. Oddio. Gianchiara, troppa roba. Sì, ho trovato il cassetto giusto. Oddio. Ancora reggiseri. Aspetta, reggiseri. Oddio. Mi ripeto che è il secondo mio cassetto? Basta. Reggiseri, Gianchiara. Ok, ho trovato anche l'altro pigiama. Ottimo. Oh, ho fatto scortare i mutandine. Oh, vi ricordo che l'ultima volta ne aveva tipo due di numero. Mi sa che le dobbiamo mettere in un altro cassetto. Che ci fai tu qui? I quaderni mi perseguitano. Il profumo per adesso lo puoi mettere qua. Dopo gli troviamo uno spazio più consono. Altra roba sportiva. Uffa. Sto cominciando a confondere. Era un pantalone sportivo. Sembrava un pantalone. Vabbè, potrebbe essere generico. Una cassaforte. Sì, ma è di quelle portatili, santo cielo, ragazza mia. Oh, Gesù. Troppi pantaloni. Chiudimi un po' di cassetti che non so più dove mettere la roba. I pigiami. Li lasciamo qua nell'ultimo cassetto. Perfetto. La cassaforte la possiamo mettere lì. Ok, il grosso lo abbiamo tolto. Quindi questi a gruppi di due. Gioco dice manco per il cocchio. Vabbè che sono magliette tendenzialmente. Non è un gran problema. Ottimo. Questa è roba sportiva. La possiamo mettere in parte al cappello. Un pantalone. Sì. C'è ancora un cassetto vuoto. Pantaloncini e pantalone. Questo è più sportivo. E allora va qui. E questi sono piccini picciò. Ma il gioco dice non c'è spazio. Aspetta. Maglietta. Tu puoi andare qui. Vediamo se riesco a ricavare un po' di spazio al bene e meglio. Sono tutte piene? Dalla prima all'ultima. Ma mi prendi in giro. Però aspetta. Questo. Ora può stare qui. Questa qua. E quest'altro. Da quest'altra parte. Per ora. In teoria dovrebbe essere il portagioie lì. Quindi andrebbe messo qua sopra. Per dover di cronaca. Senti spostami questo. Che rompe le balle. Volevo metterlo nel cassetto. Ma il gioco dice no. Ok. Ci entriamo questo. Questo può stare qua dietro. Perfetto. Una roba del genere. Dovrebbe soddisfare le loro esigenze. Credo. Non mi piace quello che abbiamo fatto qua. Ma sì. Lo spazio è quello che è. Ok. Il quaderno l'ho messo nello studio. Credo che ci manchi probabilmente. Spero. Solo la camera da letto. Padronale. Matrimoniale. Chiamatela come vi pare. Lo sapevo che la stampante doveva spuntare. Dopo la porto in studio. Gesù. Il gatto è extralungo. Non me l'aspettavo. Uno dei figli di pollo. Ok. La lampada. Oh. Una volta tanto abbiamo i comodini che si assomigliano. Mi consolo. Questo lo possiamo mettere anche sotto il letto. Oh. Oh. Tutti e due facciamo sport. Mi viene il dubbio. Guarda quanta roba che c'è. Aspetta. Aspetta. Aspetta che stanno cominciando a saltare fuori tutti. Credo come ho detto che sia uno speaker. Uno per lui. Uno per lei. Ah. Va bene. Se volete ascoltare entrambi la musica mi sembra giusto. Le lampade scompagnate. No. Però. Sono brutte. Allora. Aspetta un secondo. Che non c'è abbastanza spazio per tutto. A meno che questo. Può stare qui. Perfetto. Ci sta. Abbiamo la tecnologia. Ovviamente anche qua uno di tuoi quaderni. E dove la metto la pianta. Aspetta. Aspetta. Me ne sono accorto adesso. Ah. Ora improvvisamente tutto più senso. Dove sono le candeline. Perfetto. Ovviamente c'è anche le candele di scorta. I quadri. Perché quelli piccoli Gianchiara? Te l'ho detto nello scorso episodio che i quadri piccoli non mi piacciono. Oddio. Stanno saltando fuori tutti. E ovviamente ci va a essere anche il quadro grande di Bojack Horseman. Allora. Tirameli fuori tutti. Perché se no tra un decennio siamo ancora qui. Aspetta candele. Una sopra l'altra. Quadro piccolo. Le cuffie che possiamo mettere tranquillamente lì sotto. La borsa della Gianchiara. Ci ci. Non ci sta. La mettiamo dopo in armadio casomai. E ancora una volta sti walkie talkie. E anche gli incensi. Aspetta. Li ho trovati. Eccoli qua. Oh mio Dio. Siete dovunque ragazzi. Guarda quanti. Ma mi prendete in giro. Aspetta. Giustamente. La mettiamo sotto il cuscino come abbiamo sempre fatto. Pollo. Pollo. Mi sto incazzando. Pollo ti devi dare una regolata. E mo basta veramente però. Cos'è che non va nella nursery che mi incocchio? Ah la pianta. Eh vabbè piazza la. Oh qua sopra non ci avevo pensato. In effetti bastava togliere il pallone. Eh fatemi tornare in camera da letto. Perché è qua che c'è il grosso del disastro. Ah i quadri piccini li possiamo anche mettere. In maniera simmetrica. Da quest'altra parte. Dovrebbero avere più o meno tutti la stessa dimensione. Ma secondo me ci può anche stare. E il quadro di Bogec Horseman me lo metti. Non so perché. Sopra il letto. Questi li spostiamo tutti nel nostro armadio. Perché lo spazio abbonda. Guarda ci sta sia lo zainetto rosso. Che. Mmm. Mi sa che la borsettina è troppo grande. Guarda che rompe le balle. Lo sapevo. Forse. Ah. Che due scatole. Ok. Ho spostato un po' di oggetti. Sistemato un po' di maglie. Pantaloni. Vi dicendo. Così copriamo anche la nostra cassaforte. Che mi pare la soluzione più pragmatica. Anzi. Fammi fare una cosa del genere. Così la copri quasi completamente. Sei. Ah. A posto. Allora. Ci sono problemi anche in bagno. Ah. Ho messo degli oggetti qua. E a lui non piacciono. Perché mi deve stracciare. Gli zebedei. Senti. Li possiamo mettere qua. Ti vanno bene. Sì. Dice. Ok. Ora sono un bambino soddisfatto. Gli dà fastidio che io abbia riportato il portatile in studio. Perché lei probabilmente lo usa in salotto. Sto coso è decisamente troppo grande. Ma non so che altro fare. Allora. Spostami la figure in un punto qualunque del tavolo. Perché sicuramente la stampante occuperà tutto lo spazio. No. Guarda. La possiamo anche mettere qua di lato. E non dà fastidio a nessuno. Il premium non gli va bene qua. Io mica mi ricordo dove boi era. Mi pare in salotto. Ah beh. Lo possiamo mettere tranquillamente qua sopra. Autobus. Scusa un secondo. Mancavi solo tu alla collezione. Perfetto. Ah. Sì. Dovevo posizionare il resto degli oggetti. I giochi possono andare anche lì. Dimmi che il portatile lo posso mettere qua. Ok. Gli va benissimo. I libri li ho portati di sopra. Ah. Ok. Ci sono un po' di oggetti che gli danno fastidio in cucina. Beh. Questo lo puoi mettere qua. E ok. Il rotolone lo fa triggerare male. Quindi facciamo un reparto spezie. Tutto qui. Dimmi che il rotolone può stare qua. Sì. Ottimo. E a sto punto questo me lo puoi spostare sopra. E le pianticine le posso inserire. Ve lo mettere un po' più in dentro. Spuntano troppo. Che palle. Ma dai. Potevi anche lasciarle lì sopra. E che non c'abbia spazio. Ok. Ci ho voluto un po'. Restano gli ultimi oggetti della camera da letto. I walkie talkie. Gli lascio lì. L'incenso lo possiamo mettere qui nello studio. Perfetto. E dove mettiamo tutti i pollo? Oddio. Voglio fare una prova. Non so se funziona. Perché? Porca la miseria. Aspettate che so girarli tutti. Mi ci vorrà una vita. Oh Gesù. No davvero pollo. Io e te. Dobbiamo proprio fare. Un bel discorsetto. Sui contraccettivi. E mo basta veramente però. Io capisco tutto. Ma nove figli. Mi sembrano un po' eccessivi. Agua. C'è stato. Incredible ma vero c'è stato. Questa la possiamo mettere anche. Beh no mettila sulla finestra. Dai che c'è qua davanti. Anche per avere un po' di aromi in camera. Che non mi dispiace. Però la penna ovviamente non ci sta. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Le candele. Le posso mettere qua. Gli vanno bene. Perché se le metto in parte. Va bene comunque. Abbiamo anche spazio per mettere gli incensi. Qui dentro. Ok. Credo resti solo un oggetto. E il gioco è fatto. E il suddetto oggetto è ovviamente. Uno dei suoi maledettissimi quaderni. Ok. Ho dato anche una bella riordinata. Ultimo quaderno. Lì non ci sta. Mi sto triggerando uber male. Bambolottino. Ti metto dove? Perché rompì le balle allo stato attuale. Lo metto qua in angolo. Non mi interessa. Mi interessa. Tanto il mio lavoro è praticamente finito. Ce l'ho fatta. Ok. Dove vogliamo concludere effettivamente? Ma direi la nursery. Voglio dire. È l'evento principale per la nostra Gianchiara. Oh. Che fatica la tua vita ragazza mia. Ok. Abbiamo sbloccato un ottimo sticker. Gesù. Sono in partita da oltre due ore. Non vediamo l'ora di conoscerti. Ciao. Sono Telone. Ci possiamo conoscere. Direi che... Ditemi che ce l'ho fatta. Sono sopravvissuto. Ad unpacking. Mamma mia. Bello. Carino. Rilassante a tratti. E snervante in altri. Perché... Riusci... Non datemi il copyright però. Bevo nella vita vera intanto. Bevo nella vita vera intanto. Quanta dolcezza. Quanta dolcezza. No. Mi sto commuovendo. E perché? Che cocchio. Dai. Ok signori. Rifaccio l'auto perché davvero poi non so quanto mi ci vorrà editare tutto. Ribadisco. Gioco veramente carino. Non pensavo che avrebbero mai fatto un gioco del genere. Però un po' come Power Rush Simulator mi stupì un paio di anni fa. Anche questo ha fatto esattamente la stessa identica cosa. E peccato che sia tra virgolette durato così poco. Per quanto mi ha richiesto una marea di tempo per essere portato a termine. E mi piace come tutti gli oggetti... Pollo. Pollo ti rivi l'ora delle scatole. Dicevo come tutti gli oggetti con cui abbiamo interagito fino adesso. Ci abbiano raccontato una storia senza che qualcuno ci raccontasse una storia. L'abbiamo dedotta effettivamente riordinando la casa della Gianchiara. Signori. Devo dire che allora per questo gioco è tutto. Aspetta c'era la macchietta del caffè con la lì. Dov'era? Non me lo ricordo di averla vista. Vabbè. Dicevo. Allora per Unpacking è tutto. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace altrimenti no non vi faccio trasferire. Rimanete nella casa anche se piccole brutte tutte cose ci rimanete lì fino a che schiattate. Mi fate girare le balle. E noi ci vedremo al prossimo trasferimento della Gianchiara perché pensate che si accontenta. No no no. Questa ti sforna 36-49 figli e poi bisogna farla andare a vivere. No so in un gratta cerco e cocchio. La Gianchiara è fuori di testa eh. In memoria di Ilana Scero. Non adorata. Non so perché in russo ma vabbè dettagli. Gianchiara 1997-2018 Aspè ma c'è ancora... Ma no! Finalmente vediamo la Gianchiara. Aspè! Allora avevo capito bene. Mi sembrava ci fossero più oggetti femminili che maschili. Sono stato stito perché non volevo dire una cavolata delle mie. Oh! Sono contento per lei. Sono veramente contento per lei. Quindi signori non mi resta che dirvi. Ciao ciao!